Avviate le selezioni dal Comune di Caltanissetta per il conferimento di due incarichi di coordinatore e 17 incarichi tra rilevatori e addetti back office che effettueranno il censimento della popolazione 2021. Potrà partecipare alla procedura selettiva chi presenterà la domanda, i cui moduli si trovano sul sito del Comune della città di Caltanissetta, dopo averla compilata in italiano con i documenti richiesti, tra cui il curriculum come da form dedicato. La modulistica dovrà essere consegnata entro le 12 di giorno 24 giugno prossimo.